Chi sta per poco, infatti io fino ai primi giorni stavo benissimo, poi ho cominciato ad apposare il caldo, il mangiare, dopo una settimana, dieci giorni comincia a fare un po' pesanti, quindi hai ragionissimo e moltissimi si sono spostati, addirittura mi hanno detto che Popovici e i suoi genitori sono andati un anno prima a provare gli hotel vicino alla piscina, poi lì è andato, è andato anche due settimane prima dei giochi, quindi capiamo il livello, poi se uno vuole fare cose importanti deve un attimo gestirsi.